Allora, noi siamo tutti insieme su questa terra, giusto? Tutti insieme! È vero? Sì! A volte ci sentiamo grandi, ma siamo piccolissimi rispetto alla vastità della natura e delle forme di vita sul pianeta. Eppure siamo qui, esistiamo e facciamo parte della biodiversità. Alancate gli occhi e guardatevi intorno. Ovunque ci sono cose da vedere, il cielo, gli uccelli, gli insetti, gli alberi, le api, la foresta, l'oceano. Senza dimenticare di essere degli esseri umani, come ragazzi, ragazze, piccoli, grandi, con capelli castani, capelli rossi, la pelle chiara o la pelle scura. Il tutto va a formare un immenso puzzle che chiamiamo biodiversità. Avete capito, bambini? Adesso uno alla volta mi dite cosa vi piace di più. Il cielo, il mare, gli alberi, gli uccelli, le api. A te cosa piace di più? Il cielo? E il mare? E a te invece? I uccelli. Gli uccelli. Perché gli uccelli? Perché ci sono i miei suoi fare per i miei uccelli. Che bello. E voi invece cosa vi piace di più, tu? Il mare e anche le api. Le api, bravissimo. A te invece cosa piace di più? Le api. Le api, oggi le api sbancano. A te invece cosa piace di più? Il mare. Perché il mare? Il mare. Che bello. E voi invece cosa ti piace di più? Il mare. Ah, oggi i più quotati sono il mare e le api. A te cosa piace di più? Mi piace gli alberi. Oh, amore, a te gli alberi. E Giuseppe, a te cosa piace di più? La pizza. La pizza. Allora, avete visto, quindi, il mare, le montagne, le api, gli uccelli. Tutto questo è la biodiversità. E anche noi siamo inseriti in questa biodiversità come esseri umani. Perché questa biodiversità è come una grande casa, all'interno della quale convivono tutti gli esseri viventi. Microrganismi, funghi, piante, animali ed esseri umani. La parola biodiversità, però, indica anche i rapporti che esistono tra loro. Non viviamo ognuno per conto proprio, separati gli uni dagli altri. Viviamo insieme, in quella grande casa che è il nostro pianeta. Ok, bambini, tutti insieme nel nostro pianeta. Siete felici di essere tutti insieme su questo pianeta? Pensate che brutto essere da soli, senza alberi, senza cani, senza uccelli. Allora, siamo felici di essere tutti insieme? Sì, più forte! Sì!